Se li vedi, ti sta per lasciare. Sono segnali che indicano che il tuo partner sta per lasciarti. Il primo è quello che evita degli argomenti, cerca di scansare temi che potrebbero essere scabrosi per lui e che comunque non vuole mettersi in discussione. Ha una comunicazione molto parziale, cerca di evitare di dirti tante cose che una volta ti diceva. Cerca il litigio, dei pretesti per litigare, quasi come se gli facesse piacere perché sta precostruendosi una motivazione a lasciarti. E spesso in questi litigi viene fuori il risentimento, la rabbia che probabilmente ha bloccato, ha tenuto dentro e adesso tira fuori. Diciamo che un'altra caratteristica è che evita proprio la comunicazione. Si distrae quando in tua presenza sembra che abbia la testa da qualche altra parte. Magari guarda il cellulare oppure, insomma, anche nella convivenza potrebbe avere la testa da un'altra parte. Preferisce guardare, che ne so, Bruno Vespa alla televisione piuttosto che venire a letto con te. Questo è un altro segnale. Fa finta di non capire. Tu gli dici le cose, fa finta o non capisce o non ricorda. È critico nei tuoi confronti. Inizia a, diciamo, dal mattino a criticarti per mille motivi. Quindi, mentre una volta ti lo dava, tra virgolette, adesso ti critica. Utilizza la gelosia. La gelosia fa finta di essere geloso. Comunque, utilizza la gelosia, anche qua, per creare dei pretesti, per creare degli attriti. Ha delle aspettative non realistiche. Quindi pensa che tu debba fare chissà che cosa affinché le cose possono funzionare. E, diciamo, tende a, più di una volta, a dire, no, ma se fai così me ne vado. Allora, qua dobbiamo chiudere. Inizia a minacciare di chiudere la relazione per vedere il tipo di reazione che hai e, tra virgolette, per mettere in atto una scena che poi, prima o poi, in tempi brevi, circa tre mesi, Massimo si svilupperà sul serio. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberty dei Narcisisti con Massimo Terramasco. Ciao a tutti.